Signor Presidente, colleghi, a tutti un caro saluto e ringrazio perché nelle prime parole del Presidente emerge già con chiarezza come proprio aver puntato sui divari territoriali è l'elemento di conseguenza di quello che è un periodo delicatissimo e difficile che abbiamo vissuto. Prima la pandemia, poi quello che ha comportato la guerra in Ucraina e la nostra solidarietà, la vicinanza dell'Europa agli ucraini che si battono per la loro libertà contro l'oppressione e l'invasione russa ma che sostanzialmente si battono per una libertà che ci coinvolge tutti, il popolo europeo. E dopo la guerra ecco i riflessi sul piano energetico, drammatici proprio sul piano dei divari che si vengono a creare non solo sul piano territoriale ma sul piano sociale. Tutto questo ha aggravato sicuramente la situazione di diseguaglianza e come gruppo del Partito Socialista Europeo è proprio il contrastare quello che sono le diseguaglianze, l'obiettivo principale in una fase di questo genere. Certo l'Unione Europea si impegna, opera e lo dico in questo caso come italiano, il piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che sono stati i supporti offerti attraverso l'impegno dell'Unione Europea è qualcosa che ci dà il senso di come sempre più ci sentiamo cittadini europei superando la logica della nostra appartenenza nazionale. Dobbiamo mettere in atto quelle politiche che contribuiscono sempre più a creare un futuro di uguaglianza, un futuro che getti le basi per una società più solidale, più unita e per garantirne il successo, è stato detto ma lo sentiamo con forza, noi dobbiamo operare con un partenariato forte a livello regionale e locale. Non esiste un'Europa dei popoli se questa non è rappresentata e non offre una prospettiva a quello che è il lavoro che operiamo nel buon governo delle città, delle regioni. Come è stato sottolineato prima la pandemia, poi la guerra, poi gli effetti dei costi energetici stanno creando profonde diseguaglianze da un punto di vista territoriale e questo si riflette sul piano sociale, economico. Se non si legge però quello che è la situazione europea con la lente territoriale si rischiano di non dare risposte incisive e quindi ecco la necessità di rafforzare i sistemi sanitari. La pandemia non è finita, ancora oggi noi vediamo quanto sia necessario che sistemi sanitari pubblici che non creano una possibilità di cura per chi è più ricco e una difficoltà per chi è più povero possa essere una delle nostre preoccupazioni e la nostra direttrice di azione. Dobbiamo gestire quello che viene chiamato il caro bollette, una situazione in cui è evidente che i costi energetici si riflettono sui lavoratori, sulle famiglie, sulle imprese creando problemi sul piano del lavoro, creando problemi sul piano proprio della difficoltà di chi vive una situazione di maggiore disagio. Ecco quindi le politiche di coesione per il sostegno alle piccole e medie imprese per non rinunciare ma ansi rafforzare quello che è la ricerca di fonti rinnovabili da un punto di vista energetico continuando in quell'impegno per un trasporto pubblico che significhi decarbonizzazione dei trasporti l'efficienza energetica delle abitazioni. Insomma le sfide territoriali ci chiamano e ci portano noi amministratori locali ad essere davvero in prima linea e dobbiamo creare politiche che stimolino sempre di più quegli obiettivi che ci portano a un'emissione zero, che ci portano a una decarbonizzazione che caratterizzi un impegno in Europa sul quale la politica di coesione ha un'importanza fondamentale per evitare i crescenti rivari fra i territori. La politica di coesione nasce come progetto europeo di solidarietà e deve continuare a operare come tale in tutte le regioni europee, in tutti i 27 Stati, in tutti e per tutti e 450 milioni circa di cittadini europei. Le politiche fondate sulla solidarietà per noi partito socialista europeo sono la bussola di orientamento fondamentale e creare un futuro di eguaglianza significa essere molto fermi nella possibilità che la politica migratoria europea possa vederci in senso armonico e tollerante e solidale sempre molto vicini a coloro che accanto ai problemi che ho citato si trovano a vivere la situazione attuale. Insomma, io ritengo che il nuovo contratto sociale che si viene a creare attraverso l'attuazione di un piano di azione si fondi sull'Europa, un'Europa sempre più dei popoli attraverso gli organi territoriali che li rappresentano perché sempre più quest'Europa possa esercitare nel futuro quella politica di uguaglianza, di giustizia sociale, di libertà che ci caratterizza e che ci rende sempre più uniti proprio a partire dai livelli di rappresentanza territoriale dei nostri organismi. Grazie. Grazie.